Ci siamo! Bentornati tutti quanti a questo nuovo appuntamento qua sul canale Twitch di Avriai.it Con noi oggi Fabiana Dadone, Ministra per le Politiche Giovanili, benvenuta! Grazie, grazie a voi per l'invito! No, grazie a lei per la disponibilità! Tu? Sì, sì! Doganato? Doganato il tutto! Ragazzi, grazie anche a tutti voi che siete qua, pronti per ascoltare appunto questa chiacchierata che insomma verterà su temi che credo siano cari a tutti voi, tutti noi, insomma la generazione che con i videogiochi c'è nata, cresciuta e li frequenta. Staremo poco meno di un'oretta e ovviamente interagiremo anche con voi della chat, assolutamente, quindi se volete con le domande. Grazie per l'apprezzamento e mi raccomando ragazzi, insomma, siate... Istituzionale? No! No, non del tutto istituzionale, giusto un filino di più! Ci siamo sempre noi a fare gli scemi, però c'è anche la Ministra! Esatto! Mi darò una mano anch'io oggi, mi sa! Allora, possiamo cominciare con le domande più rigorose? Vai! Dunque, ovviamente si parla di videogiochi e molto spesso, diciamo, nei canali istituzionali, oddio, nei canali, negli ambienti istituzionali, soprattutto anche quelli della politica, i videogiochi di solito vengono identificati in maniera forse un po' miope, nel senso che è un media non troppo conosciuto e viene anche molto spesso demonizzato, invece che raccolto come un'opportunità preziosa, magari, insomma, per comunicare con nuove generazioni, ma anche con un'opportunità preziosa a livello interno, cioè, semplicemente economico. Ritieni sia possibile nobilitare il gaming o il videogioco in qualche maniera? E quali sono i passi necessari per far sì che anche il mondo della politica e delle istituzioni capisca che il videogioco è, insomma, un'opportunità? Un'opportunità grossa. Secondo me bisognerebbe partire dal presupposto che è difficile giudicare qualcosa che non si conosce. È più facile demonizzare partendo dall'idea che i ragazzi perdano tempo sui videogame, è più difficile, invece, provare a conoscere che cosa fanno, che tipi di... anche competenze sviluppano. Io lo dico anche in termini, poi, di proiezione verso il mondo del lavoro. C'è molto spesso da parte del mondo, io dico degli adulti, ma vale in senso lato anche delle istituzioni, un po' di timore verso chi prova ad aprirsi e verso altri lidi, in particolare quello dei videogame. Provare a dire, inseriamo delle sperimentazioni di utilizzo di videogame, di gamification all'interno delle scuole, per provare ad imparare in maniera più stimolante, anche ad insegnare in maniera più stimolante, provoca un po' di timore, perché è difficile aspettarsi qual è la reazione anche del pubblico e dell'opinione pubblica, per cui su questo forse c'è un po' di retrosia. Io però devo dire che l'ho affrontata invece con molta serenità e tranquillità. So che è una cosa che piace tanto ai ragazzi, ho scoperto il canale Twitch, non mi vergogno a dirlo, è pochi mesi fa, poco prima di aprirlo, e ho trovato una community, una grandissima community di ragazzi appassionati, che conoscono tante liquo, che viaggiano tantissimo, quindi molto diverso da quello che mi veniva raccontato. Credo che dovrebbero farlo un po' di più tutti i miei colleghi, senza timore di lanciarsi verso qualcosa che non conoscono. Ricordiamo tra l'altro che la ministra ha un canale Twitch ufficiale suo, che trovate semplicemente cercando Fabiana Daledone, ma adesso Roberto lo lancia in chat, quindi mi raccomando seguitelo ogni sabato, giusto? Esatto, ci prova ogni sabato. Quindi ci sono anche dei contenuti direttamente suoi, che prova appunto ad avvicinarsi a questo medio indiverso. Credi che sia una questione anche magari banalmente di età, nel senso che... Ma io non credo, posso essere onesta, non credo che sia solo una questione di età, è vero che io sono molto giovane in questo governo, e questo è un governo che ha un'età media abbastanza elevata, però credo che la giovinezza sia una questione di testa e di impostazione principalmente. Io per esempio, l'ho già detto, ho anche parlato al presidente Draghi del fatto che ho un canale su Twitch, che ho intervistato un campione mondiale di StarCraft, Aromiti, ho parlato con dei pro player, con degli streamer, e lui era incuriosito nonostante abbia un'età che è esattamente il doppio della mia, quindi non è un fatto semplicemente anagrafico, è proprio un fatto di apertura verso le cose diverse. Ma quindi secondo te c'è un problema proprio di opinione pubblica, nel senso che chi fa politica è spaventato a priori da quella che potrebbe essere la reazione anche da parte insomma di un pubblico che i videogiochi non li conosce, perché anche l'Italia è in generale non solo nella politica un po' refrattaria ad accogliere il videogame. Teniamo conto del fatto che questo è un po' un paese di benaltrismo, servirebbe ben altro però si dice quasi su tutto, ogni volta che qualcuno fa un investimento, penso anche a tutto il piano nazionale, che va a investire sulle scuole in formazione di formatori, in edilizia scolastica, in borse di studio, ti senti rispondere, ma servirebbe ben altro, anche in questo caso, quindi c'è un po' di timore rispetto al portare un'innovazione così grande. Però io in realtà ne ho anche parlato col ministro dell'istruzione che, mio sono stupore devo dire, ha detto che seguivo il lavoro che stavo facendo sui videogame, si è dimostrato interessato, perché anche secondo lui può essere una modalità diversa di imparare per i ragazzi, per cui l'ha colta positivamente e la cosa mi ha colto alla sprovvista. È importante anche perché comunque al di là della fruizione che ne fa il pubblico dei videogiochi, chiaramente per un target di pubblico più giovane, in realtà oramai non più giovanissimo, perché quelli della nostra età sono cresciuti giocando e continuano a giocare, c'è un mondo dietro ai videogiochi, allo sviluppo dei videogiochi, c'è un'opportunità anche importantissimo a livello proprio economico per il paese. Economico, sì, ma infatti io l'ho ricordato in una delle dirette che ho fatto sul canale che è un fondo, vabbè, voi sapete come funziona la legge italiana, prima si istituisce con un articolo una cosa che poi diventerà realtà dopo un anno e mezzo con i decreti attuativi. Avevamo finanziato un fondo per i videogame, per gli sviluppatori di videogame ed è arrivato forse la scorsa settimana, se non ricordo male, il decreto attuativo, quindi si può presentare la domanda per finanziare lo sviluppo di videogame. È chiaro un fondo piccolo, non ha una capienza infinita, però questo dimostra il fatto che un minimo di attenzione c'è. Come dico sempre io, se il fondo va a esaurimento in tempi rapidi vuol dire che la risposta c'è ed è tanto oggettiva, allora è anche più facile andarlo a rifinanziare, però è oggettivo che è un mercato grandissimo. Se uno ha uno sguardo leggermente proiettato verso l'estero ci si rende conto che è un mercato che c'è dappertutto, è un mercato grandissimo e quindi merita provare ad abbracciarlo, includerlo e a guidarlo come tipo di percorso. Ci arriviamo, ci arriviamo. Certo, certo, vai tu Marco, vai. Una domanda così, anche un po' più personale, giusto per svelare magari un lato così, meno istituzionale. Come è nata questa attenzione per il mondo dei videogiochi in generale, se c'è un'apertura mentale tua così o se magari deriva da qualche alleduto personale, ricordi passati, di contatti con il videogioco, amici che giocano, figli di amici, non so. Ho ricordi presenti, eh? Anche, mi gioca qualcosa. Se venti no perché ci ha fatto capire che lei non è in persona. No, io non gioco, però in realtà è dal mio compagno, lui è un grandissimo appassionato di videogame. Durante il lockdown noi abbiamo due bambini, uno piccolo più o meno, cinque anni, già grande in realtà. E hanno costruito insieme un retro gaming di quelli, però con l'estituto del cabinato, sì esatto. Io mentre ero ferma a Roma, lui mi informava man mano di come procedevano i lavori, poi l'hanno collegato ad uno schermo, tutto nuovo e tecnologico, però con tutta la forma, diciamo vintage. Io ho avuto la classica reazione da mamma dicendo non è che gli fai perdere tempo. Poi in realtà mi sono resa conto, anche grazie a degli altri amici che sono molto appassionati del fatto che c'è molto di più dietro e devo dire che oggi come mamma mi sento anche molto più in colpa quando dico a mio figlio non stare troppe ore attaccato, perché poi vedo che ha una velocità a concludere i videogiochi che è impressionante rispetto a quelle che aveva il mio compagno alla sua stessa età, quindi è rapido e gli sviluppa anche la capacità di programmazione impressionante quanto un bambino piccolo così da uno strumento che dovrebbe essere di puro divertimento invece è riuscito ad apprendere qualche cosa in maniera rapida e divertendosi soprattutto che è la parte più delicata, quindi devo dire che nasce da qui. E in passato invece, cioè prima di essere ministro da giovane eccetera, qualche contatto c'era stato oppure era... No, ho sempre avuto degli amici che giocavano i videogiochi, ma io sono sempre stata una grande appassionata di musica, quindi se mi chiedete concerti ne ho visti infiniti. Infatti lo scrive Paolo, è mentalità perché si coltava il metal, ne stavo parlando, è vero, è vero, è vero prima, è esattamente successo a telecamere spente. Esatto. Beh, è ottimo però perché in generale essere dalla parte, come magari io ascoltava metal tanti anni fa, di quelli che sono un po' ghettizzati, meno mainstream, per usare una parola, ti porta forse ad avere un'apertura diversa, una curiosità magari. Ma certo, sì. No, poi è bello che le nuove generazioni che ovviamente frequentano il videogioco, in effetti magari mostrano ai propri genitori che davvero il videogioco può illuminare le cose in maniere inaspettate. Sì, sì, è vero. Io lo cito sempre un vecchio discorso di un game designer che si chiama Greg Kostikian, che auspicava che il videogioco fosse integrato proprio nei sistemi didattici, perché di fatto propone dei sistemi interattivi e quindi fa sviluppare anche l'idea di una casualità, causalità, sì, cause e conseguenze, quindi insomma insegna a interagire con sistemi interattivi. Adesso però passando ad altro, insomma, c'è una questione che è forse un po' più spinosa, ovvero attualmente i videogiochi sono completamente esclusi dal bonus cultura. I ragazzi in chat fra l'altro di tanto in tanto vengono a testimoniare il dissenso per questa situazione, nel senso che è chiaro che non tutti i videogiochi possono essere prodotti squisitamente culturali, alcuni insomma assolvono solo una funzione ludica, ma ci sono anche libri che di fatto assolvono una funzione sostanzialmente ludica, mentre i libri, insomma, c'è il medium ad essere escluso in toto, mentre anche sono ovviamente inclusi. E di nuovo questo sembra una scelta legata a un pregiudizio. E quindi insomma, perché non ci sono e tu pensi che possano essere in qualche maniera inclusi, c'è un percorso? Allora, io credo che sia in parte anche una scelta legata al pregiudizio, questo è chiaro. Quando si fanno bonus di questo genere si prova ad estendere ciò che è cultura in senso diciamo popolarmente accettato. Sui videogame adesso si sta prendendo una grande attenzione, forse l'ho notato io perché li sto seguendo di più e mi sembra che ci sia maggiore attenzione. Prima, se si fosse introdotto questo tipo di acquisto all'interno del bonus, forse avrebbe creato un po' di effetto da parte anche della comunità scolastica, che avrebbe risposto ma come? Vi permettete di acquistare videogame con il bonus che dovrebbe servire per far cultura? E il vero dibattito sta a monte, lì non entra perché c'è un pregiudizio legato al fatto che non sia una modalità per imparare una serie di cose. Quindi penso alla programmazione, penso veramente alle lingue, il fatto che si giochi ormai a livello interattivo e quindi ragazzi di parti completamente diversi del mondo insieme giochino, crea un senso di comunità e dilotta anche le barriere che è incredibile. Finché questo salto culturale non si farà difficilmente, un bonus di quel genere potrà coprire i videogame. Però quando sarò magari al MIBAC ci potrà... No esatto, cosa pensi che possa servire per magari provare a anche solo instaurare la possibilità di dialogo, di far capire cosa sono i videogiochi oggi perché c'è anche una componente al di là di quella appunto diciamo del allenare la mente che sicuramente esiste, ma anche proprio una componente artistica, culturale, cioè ci sono videogiochi capaci davvero di emozionare come un grande romanzo e tutte queste cose sono oggettivamente cose che servono a far crescere la persona diciamo, no? Beh ma basta da vedere anche quello che ha fatto Ubisoft con gli Assassin's Creed, ha creato dei tour digitali che non sono in nessuna maniera ludici e sono semplicemente insomma che ti permettono di esplorare una ricostruzione di vari contesti storici con... Accuratissima proprio visitandola in tempo reale ma avvenuti all'interno, sì. Sì, diciamo che secondo me è un percorso lungo, io sono partita adesso chiaramente col canale, dall'altro lato mi sono mossa con Colconi, quindi con l'ambito sportivo per riuscire a cominciare a fare un punto di discussione sul fatto che anche il gaming sia una sorta di sport, non sarà lo stesso identico tipo di attività però in parte all'essere riconosciuta, qui no, quindi è anche un dibattito da quest'altro lato l'abbiamo aperto. Alla Camera, io non so quanti lo sappiano ma nella Commissione Lavoro si sta facendo un'intera indagine conoscitiva che è una serie di audizioni, si chiama La gente si ascolta, si ascoltano le opinioni, diciamolo così, una raccolta di opinioni di esperti sui content creator per riuscire a riconoscere la professione, questa è una cosa che non si era mai fatta prima, quindi sono passaggi, chiaro, piccoli piccoli, secondo me bisognerebbe anche all'interno della scuola provare a mettere in piedi delle progettualità che siano più strutturate, per esempio con la robotica si sta facendo, si parte dalle scuole elementari, se non sbaglio ci sono vari tipi di progetti che fanno le scuole, io penso quelle che hanno fatto le scuole di Roma, si parte proprio dalle elementari per arrivare fino alle superiori e farli giocare con la robotica per imparare a programmare i robot ma anche per farli appassionare a quel tipo di materia, io penso che per il gaming si possa fare stesso tipo di attività, sto provando anche di inserirle in un'altra maniera, io ho anche un'altra bellissima delega che è quella agli anniversari nazionali, voi vi chiederete che cosa fa questa struttura di missione spettacolare, finanziamo tutto ciò che riguarda il restauro di monumenti che ci dovrebbero ricordare la memoria della nazione, quindi è una roba che è proprio in chiave una freschezza assoluta, sto provando a metterci dentro il lato del gaming, nel senso che se noi proviamo ad unire il lato giovane, ludico, ma che anche sappia insegnare la storia tramite il gioco, proviamo ad unire due mondi differenti e trasformiamo ricordo e memoria, quindi su questo ne ho parlato anche con gli organizzatori del Luca Comics, sarebbe bello visto che il 4 novembre avremo la commemorazione del Milite Gnoto che non è proprio una cosa freschissima anche qui, diciamocelo però sarebbe carino all'interno della manifestazione riuscire a fare un momento nel quale si ripercorre la storia anche tramite fumetti e videogame che molto spesso insegnano molto più di quanto sappiamo. C'è un gioco bellissimo sulla prima guerra mondiale Xima Valiant Arts di Ubisoft che proprio racconta esattamente queste cose incollezionabili che di solito trovi nei videogiochi come Extra, lì sono degli elementi che ti insegnano proprio la storia, le mascherine italiane, c'è proprio una funzione museale. Qua devo fare il governo, le mascherine non ce le abbiamo perché siamo tamponate. Esatto, tutti e tre ovviamente. Ma se ci seguono lo sanno perché noi siamo appunto, stiamo seguendo le tre. No ma io l'ho precisa perché è giusto, è giusto. No vabbè siamo sempre rimasti anche noi con le mascherine fino all'altro giorno. Vogliamo recuperare qualche domanda dalla chat? Ne avevo vista una. Ne avevo vista una perché ho divento una scommessa. Sì grazie. Sì ma ne avevo. Una però, cioè quanto ci ha messo a uscire? Siamo da un quarto d'ora già. Va bene, vediamo. C'era quella di Antonio, mi sembrava super interessante che l'ha pure riscattata. Vorrei fare una domanda. Buonasera Ministra Dadone, sono un game designer che si è formato in questo lavoro tramite una laurea magistrale in informatica game design a Unimi. Oggi questo corso di laurea non esiste più e nell'istruzione pubblica non ci sono valide alternative, solo istituti privati dal costo spesso proibitivo. C'è l'intenzione di istituire percorsi di studio idonei a poter sviluppare queste capacità tramite una laurea come ho potuto fare io? Grazie dell'informazione. Allora, io onestamente su un corso di laurea specifico non ho mai effettivamente intrapreso la discussione con il Ministro dell'Università però si potrebbe assolutamente fare. Il punto secondo me è che non è che bisogna creare un corso di laurea specifico o un master specifico per tutto perché poi un po' il mio timore è che si crea un percorso di masterificio per cui si punta tutto sulla speranza dei ragazzi, si fa spendere un sacco di soldi e poi non c'è il posto effettivo. Quello che vorrei è che le università, così come le scuole pubbliche, si sganciassero un po' di più dalle modalità di insegnamento che hanno oggi che sono molto vincolate alla lezione frontale, molto al riempire i ragazzi di nozioni e molto poco attenti al provare a fargli fare casi di studio o a provare a dare un'attuazione un po' più pratica, un po' più fresca, però su questo tipo di corso specifico si può approfondire. Diciamo che io ho un po' questo timore di poi trasformare e creare corsi di laurea ed hoc che non producano un lavoro ma solo speranze e che poi vengono un po' tradite e mi dispiacerebbe. Avevamo preparato una domanda anche proprio sulla scena dello sviluppo italiano a livello economico, perché se guardiamo, come giustamente dicevi, ad altri paesi la nostra situazione non è proprio rosea, nel senso che Francia, Inghilterra, ma anche un caso emblematico è quello della Polonia che con finanziamenti statali ha supportato anche una delle software house più riconosciute e di successo nell'industria videoludica globale, eccezione fatta per le ultime svolte diciamo di CD Projekt, però insomma c'è un sostegno economico dei paesi alle realtà che sviluppano videogiochi, in generale possiamo anche allargare alle realtà che sviluppano software, ecco, sei consapevole che qua siamo un po' indietro e come si può fare insomma per cambiare la situazione? Intentando a battere sulle nuove professioni, questa realtà non è una professione così nuova, sembra nuova ogni volta che la racconto nei consensi istituzionali ma non è così nuova, sappiamo benissimo che oggi anche in termini di occupazione gli esperti di cyber security sono super ricercati ma i ragazzi non lo sanno e quindi non intraprendono percorsi di studio di questo genere, c'è un problema legato all'orientamento scolastico su cui bisogna andare a insistere moltissimo, sappiamo che col digitale ci saranno nuovi tipi di professioni per esempio anche gli architetti di cloud e allora facciamoli studiare, indichiamogli la strada e diamogli la possibilità di poter scegliere un percorso con consapevolezza, dall'altro lato bisogna riuscire a fare un buon match di domanda offerta e poi avere tutti i paesi, certo, questo è poi un tema più globale su cui adesso arrivo, bisogna avere meno timore nell'investire in questo tipo di nuove professioni, cioè per esempio questo fondo sugli sviluppatori di videogame ha investito meno rispetto al fondo per la cultura creativa, per fare un altro esempio di fondo sostenuto sempre dal Mise, è un fatto di timore perché probabilmente ci si aspetta una reazione non positiva, io invece dico che su questo fronte bisognerebbe prendere la situazione in mano senza troppo timore e provare ad investire di più perché i risultati si vedono all'estero, sono evidenti. Quindi c'è anche un problema di narrazione, cioè si può raccontare quello che in Italia funziona? Certo, secondo me si deve raccontare quello che in Italia funziona, nel senso del canale Twitch che ho aperto è anche questo, provare non solo io a rendermi conto chiaramente, ma provare a parlare con dei ragazzi che ce l'hanno fatta anche per dare un modello di un certo tipo, cioè un orientamento tramite un modello di una persona che racconta ciò che ha fatto, non tutti hanno studiato magari per fare, anzi sicuro, non hanno studiato per fare i pro player, eppure lo fanno, ci sono riusciti grazie al supporto della famiglia, le esperienze estere, qualcuno lo è diventato per caso, però serve avere modelli di questo tipo perché uno si rende conto della realtà in cui vive e prova ad avere una proiezione anche delle proprie aspettative. Poi come trattenere i giovani in Italia è un discorso complicatissimo perché attiene anche a un sistema di tassazione del lavoro che è diverso rispetto al fatto che siamo all'interno della comunità europea e come dico sempre io, noi non è che dobbiamo impedire ai ragazzi di uscire, dobbiamo permettere il flusso di circolazione, il tema vero è rendere attrattivo il nostro paese al pari di come la Germania o come lo sono altri paesi che investono di più in termini economici, perché hanno un'economia più forte. Marco avevi visto qualche domanda? Perché mi piace, intanto ringrazio tutti quanti per la condotta e anche per le interazioni che state portando avanti. Cioè per esempio proprio un'osservazione pratica di un nostro amico che ci scrive da Game Masterclass che lavora in Polonia guadagno di più qui che quanto guadagnerei in aziende italiane e non solo per i fondi ma anche per come siamo tossati, appunto, la conferma di quello che diceva lei. Perché poi in realtà comunque creativi del videogioco italiani esistono, in Italia magari ci provano facendo fatica, tra tante difficoltà, provano un po' a barcamenarsi e poi sono un po' costretti a guardare all'estero proprio perché manca quel terreno medio che in Italia, cioè magari l'esempio della quale mi ha chiamato Francesco è l'esempio più incredibile, però al punto è che in Polonia ci sono anche tante realtà magari più piccole che hanno, cioè comunque funzionano benissimo. Beh ma anche gli studi che Ubisoft apre in Canada sa perché hanno una tassazione agevolata per 5-7 anni e quindi è chiaro, possono partire anche a sviluppare progetti belli, densi e concreti. Certo, sì sì. Allora, oltre al videogioco io andrei anche su ambiti che magari interessano in generale la cultura digitale. Per esempio, noi viviamo molto su internet e ci accorgiamo che di tanto in tanto le nuove generazioni hanno un po' di problemi a rapportarsi anche a creare un ambiente sano e disteso. Io credo che potrebbe essere interessante insegnare anche i giovani a stare sul web, quali sono le responsabilità di chi sta sul web, c'è un programma anche per fare qualcosa del genere e magari cominciare dalle scuole proprio, insomma, fin da giovanissimi a far capire quali sono i rischi, le responsabilità, i doveri di chi vive sul web. Sì, allora c'è un progetto specifico sull'educazione digitale. È importante chiaramente insegnare ai ragazzi, soprattutto ai più giovani, che ciò che accade all'interno del web non è completamente sconnesso dalla vita reale. Esatto. Bisogna anche formare i formatori. Quindi torniamo un po' al discorso che io faccio spesso ma che penso sia importante. è difficile dire agli insegnanti di provare a insegnare l'educazione digitale se loro stessi non sono proprio... Sì, ecco, sì, non li conoscono, non sono proprio nativi digitali. Quindi bisogna fare un percorso doppio. Da un lato insegnare alla classe docente che tipo di strumento, che tipi di strumenti ci sono. Perché poi sappiamo che i ragazzi sanno usare i social, ma non tutti sanno utilizzare gli strumenti che ci sono anche in ambito lavorativo, per cui magari non sanno legare qualcosa da mail, ma riescono a farci un canale TikTok da paura. Quindi bisogna un po' lavorare su questo tipo di utilizzo anche diciamo un po' più lavorativo e magari meno simpatico, meno divertente, ma sicuramente più utile. Tra l'altro l'amministra c'è anche su TikTok. Io sì. Tra l'altro è un canale da paura. Per cui è questo, serve assolutamente anche nell'ottica del fatto che poi quando si vanno a fare colloqui di lavoro, oggi si guardano anche i canali social delle persone, per cui si guarda che tipo di profilo uno ha, che tipo di protocarica, che cosa fa, di che cosa si interessa. Quindi è importante sapere che quello che si fa lì ha anche dei riflessi nella vita diciamo reale, per distinguere un po'. C'era una domanda che mi faceva piacere recuperare, perché ne avevo trattato un pochino prima questo argomento. Ministro, non penso che per eliminare questo stigma sui videogiochi, visti come forma d'arte, cultura, la tempistica d'attesa sia legata al fatto che la nostra generazione sia quella effettivamente alla guida del paese, ovvero appunto il discorso che lei faceva prima di non è una questione di anagrafica o forse sì. L'unico modo è il ricambio generazionale. Beh, un po', sicuramente non lo nascondo, il ricambio generazionale aiuta perché fa avere una freschezza anche in termini di approccio che è completamente diverso. Chiaro che un conto è parlare con un settantenne che è incredibilmente avanti, un altro con un trentenne che la vede come te, ah sì, una visione diversa, sì. Secondo me un po' di ricambio generazionale servirebbe sotto tutti i punti di vista. Io quando stavo alla pubblica amministrazione ho sempre anche detto che sarebbe servito tanto per migliorare il lavoro della PA anche avere dei ragazzi giovani dentro. Chiaro che sei tutti dai 55 ai 65 anni e poi è difficile riuscire ad avere persone che salvino in cloud oppure riescano a capire quando parli di interoperabilità delle banche dati che cosa intendi. Non perché sia una loro pecca anche perché lo scatola... No, però è naturale. È naturale che se sei magari solo in un ufficio difficilmente riesci ad avere un approccio anche legato all'autoformazione in termini digitali. Invece introdurre due trentenni ti tira una bomba sul fronte generazionale che secondo me fa svecchiare, smuove e fa avere un approccio differente. Tra l'altro due trentenni che in Italia sono giovanissimi all'estero 30 anni non sono giovanissimo però... Tutte le volte mi chiedono ma lei è il ministro più giovane di questo governo? No! Non sono più giovane ma ci sono insomma presidenti del consiglio all'estero che hanno la mia età e nessuno si stupisce. Infatti sì. Signor Inc fa una domanda sui fondi che investono su start-up in ambito digitale in generale perché ha sviluppato un business plan con una start-up con un'idea di start-up che offre un servizio di insegnamento degli e-sport prima abbiamo parlato di quel del fondo specificatamente dedicato allo sviluppo videoludico ecco magari ce ne sono altri che vuole citare che vengono che vengono in mente Allora in realtà questa è il timore e allora c'è il fondo io resto al sud che è fatto appositamente per i ragazzi che aprono start-up chiaramente nel sud Italia per riuscire anche qui a frenare l'emorragia di spostamenti verso il nord ci sono quelli del fondo cultura legato alla creatività che peraltro è 90% a fondo perduto però vi faccio presente visto che questo è un canale molto frequentato dai ragazzi che abbiamo aperto un sito aggregatore che non è la cosa più giovane del mondo però è utile che si chiama Giovani2030 e riporta tutte le notizie di tutti i fondi che offrono tutti i ministeri per gli under 35 quindi lì potete trovare sia i bandi che facciamo per il servizio civile l'Erasmus Plus il corpo europeo di solidarietà tutti i bandi che fa il MISE il ministero degli affari esteri offre un sacco di borse di studio da lì si possono vedere e trovare tutto all'interno di un sito per cui vi consiglio di andarlo a visitare se non l'avete ancora fatto e di lasciare anche un commento rispetto a come è fatto così lo possiamo migliorare sistemare come sito in base anche alle opinioni del utente sì perché lei dice alle volte le opportunità magari ci sono ma sono un po' un po' ben nascolta esatto molto ben nascolta ho faticato a trovarla anche io ma non è un altro che è pieno e invece parlando di infrastrutture sì la banda larga come siamo messi adesso spoiler forse non benissimo e c'è un il piano c'è un piano per come siamo messi sotto gli occhi di tutti direi che è anche assurdo ripeterlo certo la pandemia ci ha fatto rendere conto anche di questo del fatto che servisse concludere un lavoro che è rimasto bloccato da rimpalli burocratici nello scavo della microtrincea per portare la banda larga in tutti i comuni autorizzazioni diverse dove c'è un bene che è paesagisticamente tutelato altro dove centro storico altro dove ogni singolo comune doveva dare la propria autorizzazione abbiamo fatto diciamo inizialmente delle procedure di semplificazione che non sono bastate ora abbiamo rincarato la dose anche grazie a questo devo dirlo al ministero dei beni culturali che stavolta si è slacciato un po' di più e ha permesso delle autorizzazioni per permettere effettivamente alla fibra di arrivare ovunque c'è un piano che quello fatto dal ministro Colau che prevede il completamento al 100% nel 2026 quindi diciamo scadenzato insieme alla progettualità del recovery con l'idea che per il 2026 si arrivi effettivamente ad avere le scuole cablate tutte le aree bianche coperte il 5G in alcuni territori e di riuscire comunque ad avere una copertura che sia totale 100% in tutti i territori anche perché durante la pandemia non tutti hanno avuto la possibilità di collegarsi in maniera stabile anche alla didattica a distanza e secondo me non è stato il top è chiaro in un momento emergenziale siamo riusciti almeno a mantenere i contatti però se il lavoro di banda larga fosse stato concluso prima sicuramente ci sarebbe stata una connessione diversa allora vediamo un po' in realtà arrivano domande ma anche testimonianze per esempio c'è il prof che ci dice insegno 31 anni mi capita spesso di consigliare manga, anime, videogiochi bellissimo il nostro rapporto è decisamente più diretto e semplice probabilmente stava proprio testimoniando il fatto che il ricambio generazionale aiuta indubitabilmente ma perché confini anche quello che conosci e poi sei più vicino anche anegraficamente cioè incontro a 60enne parlare di uno di sette anni un conto a 30enne sì sì decisamente diverso allora abbiamo un'altra avevo preparato un'altra domanda che è sugli esport visto che prima li hai citati si parla da già un po' di tempo di portare gli esport alle olimpiadi poi lì vabbè insomma ci sono interessi di stemma e vari eventuali però sono curiosa di sapere che cosa ne pensi io sarei contentissima lo dico molto onestamente l'importante è che l'ho detto anche in sede del convegno che è stato fatto al CONI si faccia attenzione alla particolarità degli esport rispetto allo sport tradizionale cioè non pensiamo di traslare tutta quella che è una normativa un inquadramento una serie di schemi che valgono per lo sport tradizionale anche sugli esport anche perché c'è anche un'attività diciamo ludica a cavallo quindi non è proprio identico e perfettamente simmetrico e sovrapponibile però c'è anche il panorama europeo io lo dico sempre basta guardare fuori dai confini vedere un po' che cosa ha funzionato la legislazione estera serve anche a questo uno si fa un po' di comparazione vede dove ha funzionato che cosa ha funzionato che cosa ha rigidito il sistema e poi grazie e poi vediamo di importarlo io penso che sia veramente un'innovazione che non dovremmo non dovremmo perdere l'occasione in questo momento di riuscire a farla anche perché anche il periodo pandemico ci ha insegnato questo che ha permesso ai ragazzi i vari canali di gaming ma penso anche a Twitch di tenere tantissimo i rapporti e ha salvato tanti ragazzi dall'isolamento che sarebbe stato molto più pesante e forte ha creato community quindi tutto quel timore che c'è verso il fatto che i ragazzi se giocano i videogame si isolino ma perché ma chi l'ha detto io quando parlo con i gamer tutti mi rispondono noi siamo una community grandissima amici in tutto il mondo parliamo in tutte le lingue e si sono creati dei rapporti anche nel mondo reale che sono fortissimi quindi anche lì si tratta di superare un po' quello che è una paura culturale secondo me verso qualcosa di diverso e visto che prima citavamo cioè il prof citava manga anime fumetti videogiochi no ma manga sì manga anime fumetti sì li leggi sì 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 l'ho presa anche il mio bambino sì sì meno male allora devi fare un sacco di cose beh sì possiamo dircela i rapporti umani che ti insegnano i manga l'amicizia sono veramente tanti argomenti che vengono affrontati e superati meglio all'interno dei manga che forse in ambito scolastico per cui io li sto facendo leggere anche al mio bambino e lui è contentissimo qualche manga che vuoi consigliare vuoi consigliare fatemi un po' pensare perché ce ne sono tanti di bellissimi secondo me Devilman rimane non aspettavo una roba tutta perfettina invece la c'ha strappata no però lì ti insegnano però beh lì insomma l'amicizia io l'ho affrettata tantissimo il tradimento cioè c'è veramente un po' il fatto che lui guarda la chat impazzita su dove ma no perché uno si aspettava robe un po' più tranquille fantastici cosa mi aspettavate scusa non lo so mi aspettava una cosa un po' più composta qualche anime sportivo ah ok su Slendank che ho letto è carina sì mi è piaciuto cioè Slendank carino però Devilman ma lì però tu impazzita veramente un sacco di cose io sono felice io pure io pure allora qualche altra domanda stiamo arrivando verso la fine insomma è stata impazzita la chat è impazzita di questo nostro appuntamento preparati perché faranno la clip sicuramente quindi domani un giorno da pecora me lo chiederanno sicuramente Ministro da quel che ha detto ho notato che nei suoi piani l'educazione digitale dovrebbe cominciare già dai primi anni scolastici oltre a ciò ci sono anche piani per l'educazione dei genitori come appunto diceva riguardo alle loro responsabilità però mi riferisco in particolare al disinteresse dei genitori verso i propri figli che per fattori anagrafici non dovrebbero nemmeno essere su determinate piattaforme allora questo più che un disinteresse io però si posso spezzare una lancia in favore dei genitori qui è un po' la scuola ma diciamo che si può provare come governo a fare una campagna anche grazie insomma a chi come i grandi che gestiscono i social del mondo di internet possiamo provare a fare una formazione verso i genitori non è un disinteresse credo che sia più un timore rispetto al non volersi mostrare incapaci di comprendere e quindi si lascia la gestione da parte dei figli in totale però dall'altro lato se noi mettessimo i genitori nelle condizioni di sapere che se c'è il parental control c'è un motivo per cui i ragazzini sotto i 14 16 o i totanni non devono utilizzare un determinato tipo di social credo che i genitori dovrebbero capire il perché e provare a fare più domande i figli senza avere il timore di controllarli non c'è non c'è niente di male neanche nell'ammettere di non conoscere qualcosa cioè voglio dire magari si potrebbe condividere e provare a formarli insieme cioè i figli raccontare anche ai genitori che cosa fanno sui social ma chiaramente magari se una ragazza mette foto un po' provocanti difficilmente alla condividere con i genitori però credo che adesso al di là della battuta penso che sia importante far confrontare due generazioni per capire quali sono i rischi ma anche le potenzialità perché se i genitori sapessero che i figli avrebbero possono avere la possibilità di trovare delle professioni reali tramite internet innovazione tecnologica in generale secondo me avrebbero un approccio completamente diverso ma anche magari il discorso sul page legato al videogioco cioè far capire che comunque il videogioco esattamente come un film può avere dei contenuti completamente diversi un'indicazione c'è esiste è esplicitata sul pack non la segue nessuno non la guarda non gliene frega niente non è promossa in nessuna maniera tu quando vendi un videogioco non è che ah no non hai 18 anni non te lo posso vedere esatto puramente un'indicazione così di massimo esatto manca anche quella cultura lì a monte certo certo quello è il problema vero allora siamo arrivati verso la fine della nostra chiacchiera perché poi hai un altro impegno quindi insomma ti dobbiamo lasciare andare dopo dobbiamo vedere gli uovi di David Man insieme esatto li vediamo tutti ma per esempio anche con chiuderei anche con un tocco un po' più personale le sue band preferite allora gli Inflames ho già dichiarato il mio amore più volte gli As I Lay Dying mi piacciono moltissimo Marco Marco qui adesso allora fargli vedere perché dentro questa redazione è l'unica persona in cui vi posso parlare degli As I Lay Dying sei tu no io li visti dal vivo che bei tempi ma pensa a te ora vi dirò i Bring Me The Horizon ma i vecchissimi dischi quando facevano Braille mica mia mica mia basta con queste robe che adesso fanno tutta elettronica devi urlare però finita la voce finita la voce questo è il raffreddore estivo per me no 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 finita la voce a lui oh figurati il Switch and Gage ce n'è ce n'è molti dai di band meravigliose dopo ti passo la mia playlist su Spotify va bene va bene abbiamo chiuso così grazie mille per la disponibilità insomma io credo che per la disponibilità e per i contenuti credo che i ragazzi abbiano tutti apprezzato insomma al di là dei toni e i maneschi no vabbè vabbè ho il pezzo con cui hanno vinto l'Eurovision è carino oggettivamente vabbè poi comunque è bello che alla fine non è a livelli di trigger però è carino sono d'accordo però è comunque bello che una band italiana che fa musica che in Italia non va più e che non va più neanche forse all'estero abbia comunque saputo un forse decisamente certo e grazie grazie davvero davvero per la disponibilità guarda quanti cuori per l'apertura mentale sì sì guarda non mi capire i cuori ogni tanto me ne mandano no no sono stati loro sono molto grazie rispettosi e credo che abbiano veramente apprezzato moltissimo questo contenuto e questa apertura che tu hai dimostrato chiaramente insomma il lavoro da fare è ancora tanto però se anche solo questo è l'alba l'incipit di un cambiamento che sia generazionale o di mentalità credo insomma anche solo di attitudine guarda anche solo di attitudine già basta un paese di vecchi totali credo che si possa essere davvero ben felici grazie ringrazio dell'occasione la prossima volta però giochiamo a qualcosa insieme sul divano giallo vabbè se volete proprio sconfiggervi in maniera no no non so di cooperare non preoccuparti tanto lui è scarso più scarso di me è difficile ciao a tutti grazie grazie mille ciao grazie a tutti